ciao siamo qui per presentarti una nuova esclusiva condivisa tra immobiliare 2.0 e pesticidi immobiliari, di cosa si tratta? siamo a due passi dal mare una villa di nuova costruzione in classe a riscaldamento radiante in pannelli solari vieni con noi facciamo vedere grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti